Allora le 10, ben trovati, seconda ora di start. Saluto subito i nostri ospiti, Ettore Liccheri, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle. Senatore, grazie. Buongiorno, grazie di essere con noi. Grazie a voi, buongiorno, ben trovati. Eccoci qui, buongiorno. Ecco, voglio partire da qui. Liccheri, allora, due tipi di sforzo. Quello, diciamo, tecnico, insomma, che il nostro paese sta compiendo per combattere il virus. Dall'altra parte, lo sforzo di trovare una strada condivisa. Qual è quello, insomma, il suo modo di vedere in questo momento maggiormente virtuoso? Due percorsi che devono camminare parallelamente e insieme. Ora, non c'è dubbio che la frammentazione della sanità in tanti servizi regionali è andata a detrimento dell'omologazione della strategia. Abbiamo visto tutti come sia tutto dannatamente più complicato se si va in ordine sparso. Governatori contro sindaci, sindaci contro governatori e via discorrendo. È vero, ci siamo mossi senza avere una legge, una legislazione speciale per l'emergenza. Abbiamo dovuto mutuare dalla legge sulla istitutiva, sulla protezione civile. E allo stesso tempo abbiamo avuto a che fare con un qualcosa che resta ancora oggi imprevedibile. Nessuno di noi è in grado di sapere tra 15 giorni come sarà la situazione. E allora, davanti a un quadro di questo genere, le istituzioni possono dare il proprio contributo. Come? Cercando di remare tutti insieme, mettendo da parte le gelosie, le convenienze, gli opportunismi, i calcoli e cercare di portare questo Paese fuori da questa situazione di crisi. Sui decreti di sicurezza, Riccari, come dire, sarebbe stato opportuno in qualche modo, insomma, uno slittamento o comunque tenerli, diciamo, un pochino più avanti in quella che è l'agenda politica oppure no? Ma questo non lo so. Ci sono anche dei tecnicismi di calendario, per cui comunque quello era un iter che era già partito. Ma per quanto riguarda il Senato, per esempio, la Capigruppo ha deciso che in queste settimane tutta l'Aula avrebbe dovuto lavorare come sta facendo sui provvedimenti Covid. Queste sono valutazioni che devono essere fatte naturalmente ponendosi davanti il regolamento dell'Aula. Quindi io non sono in grado di poter valutare l'opportunità di una decisione di questo genere. Dico anche però che fuori il Paese deve continuare ad andare avanti. Noi dobbiamo istruirle, i DDL, perché quando poi l'emergenza finirà, l'Aula non avrà nulla di cui discutere perché nel frattempo poi magari si è fermata. Insomma, diciamo, non è questo il punto. Il punto è un altro. Il punto è cercare di assumere ciascuno per la parte di propria competenza è una più forte responsabilità del particolare momento storico che stiamo vivendo, che finirà sui libri di storia. E poi alla fine, quando il cetto politico, il cetto dirigente litigherà, gli storici non faranno differenza tra destra o sinistra. Di questo ne dobbiamo essere consapevoli. Quindi da una parte c'è, non ci avete mai coinvolto, dall'altra invece si dice, no, vi abbiamo coinvolto tante volte, ricorderete gli stati generali a Villa Panfili, quando si incominciò a stendere le direttrici del piano di rilancio e resilienza con tutte le componenti sociali e politiche, si disse che Villa Panfili non era la sede per poter sedersi in un tavolo. Io non commento queste decisioni. Dico solo, cancelliamo tutto, voltiamo pagina e cerchiamo di portare questo paese fuori dalla morsa di questa emergenza. Ed è per questo che noi escludiamo, in questo momento ovviamente, la possibilità di un lockdown generale. Nessuno ci deve mettere il cappello politico su questi risultati che stiamo ottenendo, perché altrimenti finiamo per continuare a litigare. È evidente che questo virus ci ha sbattuto in faccia un errore politico degli anni passati. Abbiamo smantellato la medicina ospedaliera e non abbiamo rafforzato la medicina del territorio. Ma è altresì evidente che l'Italia continua a avere il primato nel mondo nella gestione dell'emergenza sanitaria. E questo lo si deve allo spirito di sacrificio, al senso di responsabilità di tutti coloro che hanno lavorato in queste settimane, in questi mesi. Ripeto, non mi faccio trascinare dal tifo, da curva, l'Emilia Romagna, il Lazio piuttosto che la Lombardia o cose di questo genere. So solo che oggi la Svizzera ha saturato i propri posti di terapia intensiva e sta arrivando l'esercito. Noi non siamo in questa situazione, stiamo continuando con grande fatica a gestire una condizione di estrema difficoltà. Anche l'ingresso di Gino Strada e della sua meravigliosa squadra di emergency, perché si possa insieme darsi una mano e uscire e strappare la Calabria da quella condizione difficilissima in cui si trova è un altro segno positivo di una società civile che si è messa a disposizione del Paese. Prego. No, lo dico a Riccardo, lo dico al Presidente Molinari. È vero che in quel video Zuccatelli sostereva l'inutilità della mascherina e noi infatti per via di quel video abbiamo ritenuto che ci fosse un giudizio di opportunità. Ma se fosse state voi al governo, se fosse stata la Lega, proprio in quel video dove si rideva la mascherina e si riteneva che la mascherina fosse inutile, chissà, magari voi l'aveste promosso Ministro della Sanità, una figura di questo genere, considerato che il vostro leader lui mi si fa andava in trasmissione per il video della mascherina. È una battuta, è una battuta, non voglio iniziare una polemica. Noi sappiamo che tutta questa storia avrà una fine. Arriverà il momento in cui il vaccino, dopo tutti i vari vaccini, dopo tutti i vari passaggi, renderanno libero questo pianeto da questo momento così complicato. Intorno anche poi alla partita del vaccino, come dire, il vaccino gioca anche una partita geopolitica lì, non risolve solamente il problema sanitario, ovviamente che è quello che tutti noi ci auguriamo. Parto da lei e poi sento Molinari. Due osservazioni. La prima, facciamo molta attenzione a non abbassare il livello di guardia, perché tanto tra poco arriverà il vaccino. Perché io temo che i tempi, perché si possa adottare o completare una campagna nazionale di vaccinazione, saranno molto lunghi. E io non vorrei che scattassero meccanismi mentali di rilassamento. Abbiamo visto come questo è accaduto anche quest'estate. Voi sapete che io sono sardo. Quest'estate in Sardegna sono stati commessi dei gravissimi errori nella gestione del Covid e ne abbiamo pagato non solo noi sardi, ma un po' tutta l'Italia, le conseguenze. Quindi facciamo attenzione a non abbassare la guardia. Per quanto poi concerne invece la campagna di vaccinazione, forse anche qui abbiamo scoperto come sia importante una gestione accentrata o comunque centralizzata di azioni sanitarie che devono riguardare l'Italia da nord a sud, in maniera tale da evitare differenziazioni o comunque delle distinzioni tra regione e regione, che pure anche nei vaccini ci sono stati. Ripeto, fuori da qualunque tipo di polemica. Pellicheri. Chiariamoci, il Next Generation EU è la più grande chance che la storia ci offre per tornare a essere competitivi. È stata studiata per il futuro delle nostre nuove generazioni. Il piano di rilancio e resilienza deve essere presentato a gennaio. Tutti i paesi membri dell'Unione Europea stanno avendo delle interlocuzioni per arrivare a quella data là. Noi ci stiamo dentro. Poc'anzi ho citato gli stati generali a Villa Panfili. Ecco, in quella circostanza Giuseppe Conte cominciò a tracciare i clusters attraverso cui si sarebbe poi sviluppato il piano che è passato al Senato è passato alla Camera il Parlamento ha dato il proprio contributo e ci stiamo avvicinando a quel risultato. Però l'Europa continua a portare dentro di sé una anomalia. Cioè si considerano i valori della libertà e della democrazia come un optional da parte di alcuni paesi sovranisti come sono stati citati da Riccardo Molinari l'Ungheria e la Polonia che ritiene che la libertà e la democrazia applicata in uno Stato di diritto non abbia niente a che fare con la volontà di compartecipazione a una comunità europea. Stamattina uno dei temi che abbiamo affrontato è stato proprio quello di Ungheria e Polonia e si è detto ma perché vedendola da un certo punto di vista perché l'Unione Europea non espelle Ungheria e Polonia qualcuno ha detto stamattina perché non ha gli strumenti giuridici per farlo e perché sarebbe un grosso problema le implicazioni sarebbero straordinarie e Riccardo e poi torno a Molinari sarebbe straordinariamente importante se gli amici della Lega e di Fratelli d'Italia che con l'Ungheria e la Polonia hanno questo rapporto di sostegno di alleanza di appoggio di vicinanza possano cercare di promuovere questo percorso di riavvicinamento di queste forze politiche a quegli ideali di democrazia indispensabili perché l'Europa possa avere un futuro di libertà